Musica Compagnia di Annabella Delia che è Presidente del Comitato Mura Latine, insomma questa qui è una battaglia che è stata proposta e portata avanti dai comitati, è una vostra anche vittoria. Sì, è un obiettivo che noi ci poniamo quello di riqualificare tutta la città, questo è solo un piccolo esempio, il fatto che non dobbiamo essere legati alle macchine, ora è chiaro i mezzi pubblici non funzionano, quindi qualcuno potrebbe essere anche in disaccordo, ma l'obiettivo è quello di creare, di liberare la città dalle macchine e di lasciarle a casa ma avere mezzi pubblici che funzionano. Questo può essere la punta di un iceberg, quindi speriamo che le istituzioni ci ascoltino. Grazie Grazie Grazie